Musica Bella a tutti ragazzi, qui L.E. ed oggi siamo su The Skate Nello scorso episodio eravamo quasi riusciti a fuggire Ma non ce l'abbiamo fatta Perché siamo di nuovo al giorno? Ragazzi? Beh, non mi cambia molto Anche se non ne abbiamo salvato non mi cambia molto Perché comunque non avevamo nulla Questo lo prendo volentieri Sì ragazzi, non si è salvato Quindi abbiamo ancora l'arma Dobbiamo studiare, potenziare la nostra velocità E ciao a tutti, proprio ciao Rezio Siamo tornati alla stessa situazione dell'altra volta Perché a quanto pare non mi ha salvato E il che va benissimo Quindi oggi dobbiamo cercare il Talcum Powder E un accendino E poi ciao Proprio non vi voglio più vedere Dobbiamo riuscire a uscire Quindi prendiamo tutti Tutto quello che c'è qua Tutte le nostre bei coltelli Ciao Benissimo, ora che abbiamo il Free Period Andiamo a lasciare fuori i coltelli E poi andiamo a cercare Il Talcum Powder Magari anche un accendino Non so se c'è quello Forse ce l'ho Probabilmente Ho preso il... Ah beh, qui ci sono già dei coltelli Ragazzi C'è Ok, andiamo a cercare un Talcum Powder Per fortuna è successo che non mi ha salvato E sinceramente non so perché Però va bene Cerchiamo di trovare subito il Talcum A vedere tutto ciò che ci serve Non abbiamo accendito neanche le proprie scelte Ah, e una cosa che posso fare è potenziarmi L'armatura Di potenza subito Non c'è il problema 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 Ma come? Strano Eh, sono sicuro che funzionasse così Ragazzi per favore datemi un accendino O un benedetto Ciao al Talcum Powder Che a quanto pare è una delle cose più rare Che si possano trovare qui Non si troverà mai Buon lavoro Che i soldi ci servono Perché si troverà molto al Google Sì, sto andando Sto andando Datemi tempo Mamma mia Ora cerchiamo ciò che ci serve Non lo troveremo mai Ci andiamo a pompare ancora Perché non basta È un'altra mia Oh E' un'altra mia Scusate, l'ho preso perché ho sbagliato. Oh, per il mio tempo. Mamma mia, questo dove sono arrivato? Um... Ok, io mi porto a free time. Yeah, moreto the area! Ok. Ok, adesso ho un po' di che marco. Iniziamo il problema da guardarmi. è un'altra giornata passata in cui abbiamo fatto soltanto la volta in plastic soltanto soltanto un cavolo ci manca solamente il talcom powder che non lo vende nessuno lo vendi questo cavolo di talcom powder dammi l'emblema è l'emblema della fuga comando ma sei proprio utile come un calzino in bocca che cazzo di paragone è oh mio dio si talcom powder ragazzi talcom powder ok si si guarda ragazzi andiamo a prendere tremor va trevor dove sei trevor mamma mia oggi è il giorno della fuga no 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 ragazzi si Io oggi esco Col cavolo che mi faccio sfuggire Questa occasione Michio ovviamente vende Ma col cavolo mi faccio sfuggire Questa occasione Ok Se abbiamo voluto trovare il talcom powder Di corsa di corsa di corsa Di corsa Qui Il talcom powder Non c'è Non c'è Non c'è il talcom powder Era qui No quindi è stato inutile Vabbè a parte l'arma No Non l'ha presa in giro No Stava lì il talcom powder Ragazzi Oh Dai mi faccia Oh No 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 Grazie Pier per avermi lasciato un pochino Stava per il cielo Che riva Talcum Powder Stava lì Che bello Una lima Talcum Powder Talcum Powder Vai così Vai così Grande Chris Grande Chris Grande Chris Bene di Dovete benedire Chris Proprio Grande Sei solo tu Sì andiamo a fare il gioco di guardia Lavorandoci andiamo a prendere subito la divisa da guardia E via Corri Corri come non hai mai corso Corri 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 Ok Non ho il dentifilo Il guardia mi sta ricercando Ho il 90% di ricerca Ok Certo Crafta Crafta e nascondito Aspetta Dov'è? Nooo Manca molto in plastica adesso Nooo Ora mi serve un accendino No io non l'ho picchiato è lui che picchia me Ebbene ragazzi Mi dispiace dirvelo ma per questo episodio è tutto Io vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare un like, un commento e di condividere Noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao